come va lassù Davide? come va lassù? bene? mi senti? io si ti sento poi magari si sente pure il pubblico se prende il microfono mi senti? si adesso si tutto a posto? tutto ok tu? perfetto ah che bello cosa si canti? please forgive me che stavolta lo so perché mi hai fatto la traduzione l'altra volta qual è? perdonami andiamo male Giovanna andiamo male marciamo malissimo perché? tu hai il marocchino marciamo tu hai il marocchino Davide non puoi dire queste cose in diretta ti prego il marocchino mi rubano mi rubano il posto è nata durante questa durante le selezioni di talent face nascono i vari flirt non è vero 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 non è ver Grazie a tutti